Il Corriere Adriatico 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 Sulle elezioni regionali invece Ceriscioli Spinge per la scelta estiva Sapete ci sono due possibilità Quella di luglio e quella di ottobre Il dilemma della data Ceriscioli preferirebbe quella estiva Anche perché in previsione Con tutti gli scongiuri Ma insomma se dovesse ritornare il coronavirus In Pompamagna per ottobre Metterci anche le elezioni regionali Sarebbe un problema Voragine invece Sopra Via Lamarca Il ponte che è stato buttato giù Scavi iniziati Ora il ponte non c'è più A centro pagina Attenzione spiaggia presidiata Altro assalto Nella giornata di ieri al mare Non solo a Pesaro Ma anche a Fano Così come in tante città italiane Ma i navigli Che non ha il mare Ma insomma Comunque Sappiamo tutti come è andata E sappiamo come l'ha presa Il governatore Fontale Che adesso ha deciso invece di Presidiare anche i navigli Insomma è un problema generalizzato Un problema che riguarda tutta l'Italia Altro assalto dicevo Molte infrazioni Appello Bis da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci Poi c'è una riflessione Che pubblica il giornale questa mattina L'istinto alla vita potrebbe diventare fatale La riflessione di Paolo Ercolani Il momento di ripartire Di sperimentare quella che l'antico e saggio imperatore romano Marco Aurelio Chiamava palingenesi Ovvero la periodica rinascita del mondo E questa potrebbe essere una di quelle Manca il tampone La storia che vedremo tra un attimo Chiusi in casa da 42 giorni Madre e figlia Mentre sempre sulla prima pagina del resto del Carlino La richiesta dei baristi Che chiedono adesso di dare la possibilità ai clienti Di fornire, di servire un caffè Senza necessariamente Obbligatoriamente Vendere anche la brioche Sapete che il caffè non si può prendere al banco Si può solo fare l'asporto Il take away come dicevamo Ma nel caso dei baristi Si può prendere il caffè Ma obbligatoriamente con qualcosa di solido da mangiare Non si può dare soltanto E servire, vendere soltanto il caffè Parrucchiere invece promosse Questa è la notizia, se vogliamo, positiva Della giorno Le parrucchiere che insomma erano state tenute in disparte Secondo quello che è stato stabilito dal governo Dovrebbero riaprire il primo di giugno Ma invece addirittura nelle Marche Si pensa già al 18 E forse, forse, se si riesce anche a qualcosa da prima Comunque c'è stato un test Anzi il doppio test ieri Come vedremo tra poco Che è andato benissimo E vedremo quali sono le regole Il protocollo da seguire Intanto cala ancora l'indice del contagio Via libera le mascherine Anche quelle fai da tema Attenzione fatele bene L'Istituto Superiore di Sanità Diceva bene proteggersi anche con dispositivi Fatti in casa ma a doppio strato Il numero di nuovi casi è in discesa In tutte le regioni Ma l'Istituto chiede ancora di rispettare le regole Perché questa è la condizione fondamentale Per poter evitare il contagio Poi sui test sierologici Sono bloccati Sono bloccati per un cavillo E ci risiamo Sulla privacy Tre università italiane Sviluppano una cyber cavia Che permette di velocizzare la ricerca di un vaccino I test quindi di questi primi 150.000 italiani Per capire quanta gente Quanta parte della popolazione Si è immunizzata al Covid-19 Sono bloccati da una norma sulla privacy La questione in particolare Riguarda il reperimento Dei contatti telefonici Dei singoli cittadini Che saranno chiamati A fare il test E' attesa infatti in questi giorni Una norma in materia di privacy Che sblocchi qualsiasi impedimento Per contattare attraverso le ASL Nelle varie regioni E le richieste ai singoli cittadini Selezionati su scala nazionale Ora sono tutte quelle cose Talmente paradossali Che fanno venire soltanto i nervi Perché parliamo di privacy Di qualcosa che si blocca Per un discorso di privacy Quando poi nella pratica Nella vita quotidiana di ogni giorno La nostra privacy Si fa fare Si va a far benedire continuamente Basti pensare soltanto Che quando Ai famosi checkpoint Parlo di Pesaro Anche quello di Fano Quando queste persone Che hanno contratto il coronavirus Vanno a farsi fare il tampone Per vedere Per ricevere quella famosa Benedetta patente di guarito Sono uno di fianco all'altro In coda In doppia fila Come dire Uno guarda Ah anche lui Non sapevo Magari messaggino Sai che c'è anche Tizio Sai che c'è anche Caio Ah non sapevo che quell'altro Ecco Al posto di fare una fila unica Che sarebbe certamente Molto più lunga Ma almeno Un minimo di privacy Uno arriva lì Si mette in cura Al massimo Vede quello che c'è dietro Ma non tutta la Ecco Quindi per dire Come la privacy Poi nella vita reale Parliamo poi Tutte le telecamere In giro Quindi I banco Siamo seguiti ovunque Possono ricostruire la nostra giornata Dal momento in cui Ce le laviamo i denti al mattino Fino alla sera A quando ce le rilaviamo Questo invece è un articolo Interessantissimo Che È tutto da leggere Parla Un esperto Il neurochirurgo Giulio Maira Che ha 76 anni Ma è un neurochirurgo Di fama mondiale Vanta una formazione Didattica e professionale Di altissimo livello Di altissimo profilo Presso numerosi ed eccellenti Centri europei nazionali Allora siccome abbiamo Un po' di tempo Io direi che possiamo Leggerlo Perché Riguarda tutti Praticamente Tutti Perché tutti quanti Noi abbiamo vissuto E stiamo vivendo La nostra quarantena Ormai questo Questo fatto Che ha coinvolto il mondo E tutti gli esseri umani Da ormai diversi mesi E allora Massimo Coutot Ha intervistato appunto Giulio Maira Il quale risponde A delle domande Anche con un po' di ironia Ma Dicendo cose davvero Molto interessanti Allora Il cervello intanto È ancora un mistero Contiene 100 miliardi Di neuroni E 150 miliardi Di sinapsi Che trasmettono Gli impulsi nervosi Tra i neuroni E gli assoni Che trasportano L'impulso All'interno del neurone Si dipanano Per 160 mila chilometri Un terzo Della distanza Fra terra e luna Su questo sistema Complesso Si è abbattuto Il coronavirus Ribaltando Il tavolo E partiamo quindi Da qui Ci siamo trovati Davanti a una situazione Dice il neurochirurgo Una situazione Eccezionale Il cervello Ha subito Una ferita Paura e stress Emotivo L'hanno bombardato Con informazioni Ansiogene Ma Ha saputo Reagire Come? Partendo dall'angoscia L'angoscia Per costruire cose diverse Se vogliamo uscirne Nuovi lavori Nuovi rapporti Nuovi modi di pensare L'ansia Quella che a giuste dosi Serve Poi dopo Ovviamente Quando si supera Diventa attacchi di panico Fa danni Eccetera Ma l'ansia Fa scattare Un interruttore primordiale Che attiva le difese Contro l'aggressore esterno Liberando adrenalina Ma in questo caso La secrezione Di cortisolo Troppo prolungata Riduce La serotonina Che cos'è? Il trasmettitore Di felicità Ecco perché ci siamo Sentiti depressi Durante questa quarantena Il cervello Siamo noi Dice ancora Contiene i ricordi L'amore I sogni Quando è in pericolo Tira fuori l'arma migliore Ovvero la capacità Di adattamento Il meccanismo Del pensiero È rapido e lento Nel primo caso La risposta è emotiva Intuitiva Nel secondo Dà risposte più razionali È successo così Con i decreti A ripetizione Del Presidenza del Consiglio Dopo una serie Di provvedimenti D'emergenza Si progetta Il futuro Del post-epidemia Il cervello Impara sempre Anche quando siamo Chiusi dentro Le nostre case Il Covid Non è solo Lutti E terrore Ci ha fatto capire Quanto è straordinaria La normalità Proprio perché Ci è venuta a mancare Siamo stati capaci Di relazionarci Con gli altri Pur in un ambiente Ristretto E questo è avvenuto In coincidenza Della primavera Attenzione Non è un caso Cioè non è Qualcosa Da mettere in secondo piano Perché la primavera È il risveglio Della natura Contrapposto Al buio Di questi giorni tristi Che ha fatto riflettere Sul rispetto Dell'ecosistema Tutte sensazioni Che il cervello Ha messo nello zaino Per ripartire E poi La ripetitività Delle giornate Questa ripetitività Delle giornate Ha generato Un effetto Noia Ma attenzione La noia Ha un ruolo chiave Nella creatività La mente Priva di compiti Quotidiani Può vagare libera Ed è così Che nascono le idee Altro fattore positivo È il sonno Si dorme di più Si resettano I cattivi pensieri Non è forse In uno stato Di dormiveglia Che Paul McCartney Ha scritto Yesterday E poi Il tatto Senza bracci Si è impoverito Chi è stato contagiato Ha avuto gusto E olfatto Per esempio inibiti L'udito Si è sdoppiato Fra il silenzio Delle strade E l'urlo Delle sirene Ma il colpo peggiore L'ha subito la vista Le bare Tutte quelle bare Trasportate di notte Dai militari Le terapie intensive Queste fotografie Che scorrendo il dito Con Facebook Continuamente Ci vengono riproposte A bombardamento Soprattutto i bambini Ecco I bambini Rischiano un trauma Psicologico Il loro cervello È una spugna Bisogna spiegare Che cosa accade E magari distrarli Con una favola Il sesto senso La domanda Del collega Del giornalista Intendo L'eros La libido Insomma Il fare l'amore L'euforia Nelle coppie Ha caratterizzato La prima parte Della reclusione All'inizio della quarantena In effetti È stato un po' così Poi Seratonina E ossitocina Sono calate E ci siamo Praticamente Spenti Tra l'altro La domanda Sempre per Metterla un po' Sulla risata Molti pensavano Che l'effetto virus Avrebbe riempito Un po' di culle Speriamo Che i primi giorni Di reclusione Siano bastati E qui Si è messo A ridere Anziani e giovani Chi si adatta meglio? I nonni hanno il vantaggio Dell'esperienza Risponde Hanno perso le cellule Ma acquisito connessioni Come dire Meno alberi Ma con più rami I ragazzi invece Sono un po' più esposti E chiudiamo con La differenza Tra uomini E donne Hanno reagito In maniera diversa I due sessi Hanno l'1% Di geni diversi Sembra nulla Ma per capirci Tra Einstein E uno scimpanzé La differenza È dell'1,5% Gli uomini Possengono più neuroni Le donne Hanno più connessioni Sono multitasking E così Se la cavano meglio Averle lasciate fuori Dalle cabine di comando È stato un suicidio Ma io qui Aggiungerei una cosa Ecco perché L'uomo e la donna Vanno bene Insomma Si compensano Quindi uno Compensa l'altro Quindi è importante Uomo e donna Insieme Professore Lei parla del virus In relazione al genere umano Crede che gli italiani Appartengono a questa specie Ride di nuovo Gli italiani Si comportano benissimo Il loro cervello Funziona E adesso I parrucchieri Le parrucchiere Che sono promosse Riuscita la prova Sul campo simulata Ieri d'Ancona Con il presidente Regione Ceriscioli Per anticipare L'apertura di Air Stylist E di altri Il presidente Anche da Amoa Dice esame brillantemente superato Il meccanismo È chiaro Nadia Storti Qui farei i miei capelli Manuela Bora La presenza Dell'ufficio di igiene Importante Si punta adesso L'anticipo Del 18 maggio Che cosa Potreste trovare Il ritorno Dal vostro parrucchiere O dalla vostra parrucchiera I plexiglass Paraschizi Oppure delle visiere Per proteggere il viso Dello scotch colorato a terra Per indicare i percorsi Cartelli appesi Con un vademecum Da seguire Per evitare contagi E materiale monouso Accompagnato dalla mascherina chirurgica Che il cliente dovrà Obbligatoriamente indossare Insomma Come entrare In una centrale nucleare Quasi Insomma A posto di farsi i capelli Vabbè Questo è Non è vita Portare Vivere con la mascherina Però dobbiamo Dobbiamo adeguarci Dobbiamo adattarci E questo E dobbiamo ecco Come dicevamo Costringere il nostro cervello A dire E a pensare Che comunque Sono tutte cose Che servono per la sopravvivenza E quindi Forse il cervello Poi ci dirà Ok Allora sopporta E vai avanti Così possono ripartire Dicevamo I parrucchieri E centri estetici Delle marche Dove la regione Ha definito il protocollo Che le linee guida Che la categoria Dovrà rispettare Per riaprire Le attività Probabilmente Già dal 18 di marzo Governo permettendo Perché Lo ricordiamo Il governo invece Ha stabilito Le riaperture Per il primo di giugno Però pare E questo leggevo boccia Ieri che diceva Dal 18 Le regioni Potranno decidere Praticamente da sole Chiaramente Seguendo un po' Le linee Le linee guida Del governo Poi Si va Di caso in caso La prova Dicevamo È stata brillantemente superata Ha detto il governatore Il salone Ha messo anche I dispositivi Facoltativi Come la barriera In Plexchile Vedo cartelli da perduto Ha detto Disinfettante Personale Con le mascherine Ben protetto Quindi si parla Di questa ripartenza L'estetista invece Che lavora Nello stesso Negozio Ha spiegato Che continuerà Dunque l'attività Su appuntamento Come era Abituato a fare Chi arriva senza mascherine Invece ha detto Sandra Ragnetti Gliela fornirò io Perché sono attrezzata Con mascherine Già imbustate Mono uso Questa è la pagina Sempre del resto del Carlino Regionali Qui parliamo invece Di politica Il centro-sinistra Spinge per Andare a votare Per il nuovo Per eleggere Il nuovo governatore Ad ottobre I consiglieri Puntano su quella data Mentre i partiti Sono un po' più morbidi Nel mezzo Il governatore uscente Che apre Anche per luglio Quindi luglio-ottobre Questo è un po' Il dilemma Relativo a questa data Per le elezioni regionali L'ultima riunione Di maggioranza Di due giorni fa Non ha messo Un punto fermo Seppur spingendo Verso l'ipotesi autunnale Molto più dura La posizione invece Dei consiglieri regionali In carica Che del voto In estate Non vogliono proprio Sentir parlare In mezzo al governatore Il governatore Ceriscioli Che ha fatto Un ragionamento semplice Lasciando aperte Le due ipotesi La questione è Di fatto Abbastanza Come dire Semplice Secondo il presidente Se il virus Lo consentirà Si potrà votare a luglio Quindi tra qualche mese Ma diciamo che luglio E domani Nel senso che Tra campagne elettorali Poi il discorso è Come dicevamo Come ho scritto anche In un editoriale Qualche mese fa All'inizio di questa epidemia Il problema È che se anche si andasse A votare a luglio Essendo ormai A metà maggio Manca un mese e mezzo Insomma mancano due mesi Al voto E certamente Sarà una campagna elettorale Diversa Sarà una campagna elettorale Molto più High tech Tecnologica Fatta Di video Messaggi La campagna elettorale Non sarà più Porta a porta Come siamo stati Abituati Fino a qualche Tempo fa Quindi bisognerà Rivedere anche Tutte le strategie Di marketing Per cercare Di accaparrarsi Il voto Perché altrimenti Resta difficile Immaginare una campagna Elettorale Faccia a faccia O comunque Dove il rapporto O la ricerca Il convincimento Dell'elettore Passi attraverso Il contatto Diretto La stretta di mano La promessa Questo e quest'altro Insomma Una campagna elettorale Tra l'altro Imprevedibile A questo punto Però Ceriscioli Fa un discorso Molto semplice Si potrà votare a luglio Mentre il caso Di aumento dei contagi Si slitta ad ottobre Ma Se poi Gli scienziati Immaginano Una nuova ondata Proprio in quel periodo Cioè nel mese di ottobre Significherebbe Andare di nuovo Proprio Non andare a votare Quindi forse Meglio luglio Che Che in ottobre Anche qui Tutto È tutta un'incognita E poi A proposito Di ansia A proposito di paure A proposito di C'è un numero verde Per sostenere Gli stressati Da epidemia Quest'epidemia Che comunque Logora Anche i più forti Per questo Il Gores Della regione Marche Ha reso disponibile Un numero verde regionale A supporto dei cittadini Per consulenza medica Sociale E psicologica Nell'ambito Di questa emergenza Il numero verde Ve lo faccio Vedere qui Eccolo 8000 Aspetta 8000 9366 777 Da chiamare Dalle 8 alle 20 Con linee dedicate E operatori pronti A fornire informazioni Ai cittadini Ma solo per quanto riguarda Ripeto Il discorso Della psicologia Ma anche per consulenza medica Insomma Tutto quello che riguarda La salute Manca il tampone Questa è una storia Che arriva Da Pesaro Dove Madre Che è una donna Di 80 anni Con il figlio Di 54 anni Col padre di Alizzato Che è morto il 26 scorso Costretto a rimanere In casa Senza alcun motivo Gli avevano detto Di aspettare Di stare in casa Scrive Roberto Damiani Era convivente Di una persona positiva Che poi è deceduta Lui ha obbedito Sono passati I primi 14 giorni Di reclusione E lui è rimasto in attesa Poi non sentendo nessuno Ha chiesto di essere Sottoposto a tampone Attraverso il suo medico di base Nessuna risposta Da parte dell'Aso Dopo un mese Ha rinnovato la richiesta Niente Ora sono passati 42 giorni E ancora nessuno Ha chiamato Luciano Cassetta Talio 54 anni Pesarese Che dice Ho fatto 50 telefonate A tutti i numeri Dell'Aso Ho supplicato Di avere un tampone Perché non posso Continuare a vivere così E insieme a me Dice c'è anche mia mamma Che ha più di 80 anni E non sa Non sa più resistere Dentro casa E questo è l'appello Che lancia Io so che ci sono Delle persone dell'Aso Che ci seguono Tutte le mattine E so che in questo momento Già staranno Mettendosi in moto Altri nove contagi E due decessi Questa è la lista Di quelle Sono quelle notizie Che si devono dare Sì si devono dare Però aumentano l'ansia Aumentano lo stress All'inizio Avevamo proprio Un bollettino di guerra Tutte le sere E questo non ha fatto altro Che generare panico Ansia a tutto spiano Comunque La situazione di ieri Nove contagi Due decessi La curva scende Per tutti i valori Morti, ricoveri e malati L'andamento in provincia Dopo 8832 Esami di laboratorio E quindi Possiamo dire Che Le cose Continuano Ad andare Nel verso giusto Però E' bene che qui Un attimo Due minuti Tutti Li perdiamo Nel senso che Non sono persi Li spendiamo Chi è? Ecco Allora che due minuti Li spendiamo In questo senso Che Molti Si sentono liberi Di uscire Molti Lo fanno Passeggiate A destra A sinistra Al mare Va tutto bene Con la mascherina Distanziamento sociale Ma Non è che E' bene Mettersi in testa Una cosa Che Questa è la settimana È una settimana Di esame Se la prossima I numeri Dei contagi Dovessero risalire E speriamo Di no Chiaramente Ci riportano Tutti dentro casa E questo Sarebbe la fine Allora E' importante Che quello Che stiamo facendo Adesso Dai nostri Incontri Con i familiari Soprattutto Con i parenti Con gli amici Eccetera Eccetera Siano fatti Mantenendo La stessa rigidità Di qualche settimana fa Quando eravamo Nel lockdown Più stretto Perché quello Che noi facciamo Oggi Se domani La prossima settimana La curva dei contagi Dovesse Malauguratamente Risalire Significherebbe Giocarci L'estate Ritornare Tutti dentro casa E richiuderci Tutti un'altra volta Ma sarebbe davvero La fine Quindi Prima di uscire E di andare A fare la vostra Passeggiata Oggi O tra poco Con nonchalance Pensando che Tanto ormai Il peggio è passato Vi state sbagliando Di grosso Questo non è Perché il virus Ancora circola Lo ricordiamo bene Il virus esiste C'è Ha perso probabilmente Qualche cosa Dicono Di potenza Ma è ancora Un virus Che può uccidere Quindi Attenzione 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 Andiamo adesso Sull'altra pagina Del resto del Carlino La pagina di Fano Al via la distribuzione Di 60.000 mascherine Tanti sono quelli Che ci hanno chiamato Ci hanno scritto Per dire Che cosa Dove poter Prendere Questa Queste mascherine Che avete fatto vedere In televisione Nel telegiornale Insomma Un attimo di pazienza Ecco la risposta La distribuzione Di queste 60.000 mascherine Verranno fatte Attraverso Verranno distribuite Attraverso 22 gazebo Messe a disposizione Dalla Proloco Chi non potrà Ritirarle Le riceverà a casa Grazie al Comune E alla protezione Civile Ci sarà Una mascherina Chirurgica Per ogni Cittadino fanese Dai sei anni In su Ora Va tutto bene Per carità A Milano Si dice Piuttosto che niente Mai piuttosto Cioè Anche una va bene Poi se consideriamo Che la mascherina Si usa Quattro ore Quelle chirurgiche Poi si buttano via Ora io immagino Tutta questa esasperazione Per trovare Sta mascherina Gratis E gratis Forse Che fa andare Fuori di testa Perché per il resto Ormai sono disponibili Ci sono a 60 centesimi L'una In farmacia Ora Poi se uno vuole avere La mascherina del Comune Per dire Ce l'ho Per carità Va bene Ma è una mascherina È una Dopo quattro ore La butti via Un giorno La butti via E fare tutto Sto popò di roba Per una mascherina Mi sembra un po' eccessivo Lo dico soprattutto A quelli che ci hanno chiamato In questi giorni Pensando di dover Andare a ritirare Un assegno Da un milione di euro Cioè da mille euro Insomma Questo per dire Stiamo tranquilli Parliamo di una mascherina Che il Comune regala E che dopo quattro ore Lo ti butta nel cestino Vabbè Comunque sia È il rito Che conta Il fatto di aver preso Una mascherina Gratis Dal Comune E quindi Poterlo raccontare Ai nipoti Altre due Mila In preparazione Per i bambini Da 5 ai 10 anni Il sindaco Non può togliere Invece sulla pagina Di Urbino Non può togliere Quelle tasse Il candidato Alle regionali Dei 5 Stelle Ferraro Sulla eventualità Di sospendere L'Atari E la Tosap Tocca allo Stato Dice Gambini Può fare altro Urbino Città sicura È un'idea vincente PD Viva Urbino Soddisfatti Per la proposta Portata nella commissione Con Erdis Comune E Università Ecco Già qui Per esempio Se andiamo a vedere Come è stato posto E come è stata posta La questione Facciamo un raffronto Con Fano città Fano covid free Ecco Il discorso cambia un po' Più o meno Il senso è lo stesso Cioè nel senso Come dire Venite a Urbino La città è sicura Non prenderete il virus Però Già fa un altro effetto Lo slogan è diverso Rispetto a Fano covid free Perché Il fatto stesso Che venga inserito Il nome Di una Di una pandemia Della covid Appunto Dentro un brand Insomma Non è che sia Il massimo della vita Urbino città sicura È un'altra cosa Ma poi alla fine Il risultato è lo stesso Sia Fano covid free Che Urbino città sicura Solo che sono due modi Di porre E di proporre Le cose La vittoria di Lidia Eccola qua La signora Lidia Che su una Sedia Attorniata Dai Da questi angeli custodi Ha Posa In questa fotografia Per dire Ho battuto il virus A 82 anni Questa signora Anziana Ospite Della casa di riposo Zaffero Lotta per un mese e mezzo E riesce a sconfiggere Il virus Con l'aiuto Degli operatori È una storia Che arriva da Urbania La signora Si chiama Lidia Longhi E ce l'ha fatta Davvero complimenti Si era ammalata Di coronavirus Un mezzo e mezzo fa Tornando da una visita Alla residenza Per anziani Zaffero Dove abita Ha cominciato A avere sintomi preoccupanti Lidia ha avuto la febbre E dicono Abbiamo subito Chiesto il tampone Dice la responsabile Della struttura Che è stato eseguito Dopo alcuni giorni Nel frattempo Tutta l'equipe Della struttura Ci siamo appresi A cuore In questo caso Una paziente Non facile Poiché affetta Anche l'Alzheimer Alla fine però Ha vinto lei E quindi Benissimo così Il sindaco Bonci A Fossombrone Sul taglio delle tasse Prima modificheremo Il bilancio Il primo cittadino Vuole imitare La scelta di mercatello Per la TOSAP Che è la tassa Lo ripetiamo Per l'occupazione Sono pubblico Aspettiamo Il prossimo decreto E era l'ultima notizia Sì Non abbiamo Come abbiamo già detto Il Corriere Adriatico Perché non era disponibile Alle sette Insomma del mattino E quindi Ci fermiamo qua Grazie per la vostra attenzione Vi auguro Un buon fine settimana Vi ricordo domani mattina Alle dieci In diretta Sul canale 17 La messa Dalla cattedrale di Fano Celebrata dal vescovo Armando Tresarti Arrivederci Grazie a tutti